Salve a tutti e bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi, in questo nuovo video vi spiego come risolvere i problemi all'avvio su Epic Games ovviamente faremo sia dei metodi nuovi che metodi di Epic Games che ci consiglia direttamente lui quindi in questo caso andiamo direttamente sulla pagina che ti ho lasciato in descrizione per seguire ogni singolo passaggio ovviamente dobbiamo prima controllare lo stato dei server di Epic Games può essere che Epic Games è offline per un paio di secondi, minuti, quindi stanno facendo una manutenzione quindi dobbiamo aspettare può essere un fatto di controllare gli aggiornamenti sul nostro sistema operativo verificare se abbiamo i requisiti di sistema oppure disattivare l'ottimizzazione a schermo intero per ora faremo questi quattro passaggi quindi in questo caso come ho detto controlla lo stato dei server di Epic Games andiamo a vedere se il nostro Epic Games si avvia e se devi fare qualche aggiornamento all'avvio ovviamente se vai direttamente in alto a destra sul tuo profilo dovresti vedere tipo un tasto tipo aggiorna quindi in questo caso non si deve aggiornare nulla ed Epic Games a me funziona il secondo passaggio è controllare così gli aggiornamenti quindi in questo caso controlliamo così gli aggiornamenti sul nostro sistema operativo attraverso Windows Update verifica disponibilità aggiornamenti perché io gli aggiornamenti li ho fatti pochi giorni fa quindi ultimo controllo oggi quindi non ho nessun aggiornamento da fare cronologia degli aggiornamenti installazione è riuscita il 30 di agosto basta verifica i requisiti di sistema verifica i requisiti di sistema ovviamente richiede così solamente 2 GB di RAM processori veramente vecchissimi e schede grafiche anche vecchissime con DirectX 9 e disco sullo spazio 1 GB quindi anche un portatile del 2014-15 potrebbe scaricare Epic Games e avviarlo disattivare l'ottimizzazione a schermo intero chiudiamo Epic Games quindi chiudiamo un attimo Epic Games andiamo a scrivere Epic Games qua dentro apri percorso file apri percorso file Epic Games Launcher.exe mostra attribuzioni proprietà compatibilità eseguiamo questo programma sempre come amministratore disabilito di imitazione di schermo intero e io eseguo sempre il programma tipo in modalità compatibilità per Windows 7 poi faccio ok cancellare così le web cache dell'Epic Games Launcher eseguire Epic Games Launcher come amministratore aggiornare sempre i drive della scheda grafica e reinstallare Epic Games Launcher quindi in questo caso vado direttamente su esegui per cento app data per cento vai a scrivere qua sopra e fai ok app data local scendi fino a giù fino a trovare così la cartella di Epic Games devi cancellare così la cartella di Epic Games Launcher oppure puoi cancellare direttamente web cache 4430 in questo caso una volta cancellato quando vai ad avviare Epic Games ti chiederà di fare il login quindi devi reinserire le tue credenziali e accedere al tuo account Epic Games ora passiamo anche alla parte dei driver da aggiornare quindi come aggiorno i driver della scheda grafica andiamo su Nvidia GeForce Drivers qui inserisci così il tuo prodotto la tua serie io ho una 1660 Super quindi tipo di prodotto metto GeForce sistema operativo metto Windows 11 italiano metti tutto fai la ricerca scarichi e installi così il tuo driver stessa cosa anche con AMD Windows 10 Windows 11 driver lo scarichi e per Intel è la stessa cosa una volta fatto se non ti funziona esegui il programma come amministratore quindi Epic Games tasto destro sopra esegui come amministratore se non dovesse funzionare puoi reinstallare così Epic Games e prima di avviarlo riavvia il tuo computer ovviamente ti ho lasciato in descrizione quella pagina che puoi seguire con calma quindi grazie a tutti per questa visione noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao ciao